Bella a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video, siamo sulla skyblock 2.1. qualcosa e abbiamo deciso di eliminare la serie in singolo e finalmente essendo riusciti a fare un server a giocare insieme, avevamo intenzione di fare anche la diversity però per problemi di server ed era con tutte le funzionalità che come potete sapere la diversity non riuscivamo cioè riuscivamo a collegarti, però ad andare nelle custom mappe, cioè nelle mappe non riuscivamo comunque siamo qui sulla diversity, fra il più esperto di me, c'è diversa, madonna, ok siamo qui sulla skyblock, fra il più esperto di me nella skyblock perché io sinceramente non ci capisco molto, anzi non so neanche fare un giocatore di cobblestone perché io anche se ci provassi mi verrebbe fuori sicuramente l'ossidiana, quindi balliamo le ciance dopo un minuto di cazzeggio di parlare e vai fra, allora qui dentro fai vedere cosa c'è dentro, ghiaccio e secchi di lava, come magari avete già visto nella serie di Fra con queste due cose qua ti fai il digeneratore di lava, cioè si di lava come no di pietrisco e state tranquilli che Fran non useremo, aspetta spostati, che devo trovare come fai, aspetta aspetta nico nico fermo fermo, eh io guardo te, ok già ho sbagliato, allora teoricamente se io faccio così, no ho sbagliato, granga banana, fai così, ok, ok, non ci capisco niente sinceramente, dei generatori, sento roba che si rompono, vediamo solo azzeccato, ok, sì, l'albero come si fa? eh, aspetta perché conviene, eh, aspetta 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 faccio io, spostati, guarda me, guarda inquadrami, spostati, ok, aspetta che non voglio finire nella lava, sì lo so, adesso, raga buttiamo in giù fra? no, ho la terra, è indispensabile, ok, rompo io, perché devo, bisogna stare attenti che non cada niente, bravo, rompo io sto di qui, così se per caso è troppo qualcosa io, io non troppo niente, infatti ce l'ho tutta io per ora, ok, comunque hai capito, ok, vai spacca, 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 ok, tu sta qui a cercare, a vedere se ti da qualche droppino, cioè prendi il droppino, eh, devo lasciare, metti tutta la legna, anzi, fai così, stai tu, io so già cosa fa, ah, ecco, ecco, salviamo il droppino, ok, ripiazzalo qui, facciamo subito una craftina, giusto, no, è bravo, e dobbiamo fare un piccone, perché per ora abbiamo la legna contata, fai solo un piccone, così spacciamo la cobblestone, e una spada, fai una spada, ah già, sì, è una spada, allora facciamo un piccozzo, piccone, e facciamo una spada, e non abbiamo più legna, no, adesso devo spaccare sta, no, no, sono caduto, nico, con il mocello, vabbè, due ce ne sono ancora qui, meno male, no, non spawno sempre nel vuoto, dai, ma perché metti qui il legno non lavorare, allora, mentre frà continua a spawnare nel vuoto, no, aiutè, che mi aiutè, che io stai spawnare nel vuoto, nico, 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 ok che abbiamo riscosto possibili fra fra tutti per il piccone va bene il nome e mi tengo la spada sparita l'acqua se ti levi dalla coppia sto magari la scavo dalla me poi inizio ad allungarmi verso l'isola mo io ora che riesco a scavare la coppia sto senza contare che cade tutta nella lava noto ok quando va di qui siamo ancora salvi ma è iniziata almeno un mio dio franco santo devi allargare la piattaforma vedi fatta l e vedi che fatta ecco casa mi chiede l'alcone buono è fatta a creare l'argomento di si ma non vedi che è un periodo del quadrato io cerco di recuperare sto blocco di terra che ovviamente non sono uscito ok fra fatto si sta facendo la notte e come facciamo la lana qua è un casino io la spara e abbiamo la lava che fa luce è giusto abbiamo la lava che fa luce quindi il massimo spawnano nell'altra isoletta eh che poi la prima cosa che dobbiamo fare è raggiungere l'altra isoletta si ma oltre a quell'isola lì non c'è niente no oltre a quella non c'è niente poi dobbiamo fare con quell'isola lì facciamo il portale del nether si ok no è l'ora di ah no meno male viene ancora connesso vatti la spada di cobblestone dammene una anche a me to ti do altra cobblestone tu dammi fammi la spada di cobblestone ancora a me ti faccio una spada di legno e ti attacchi ma no di cobblestone c'è comunque la cobblestone non sprecare il legno si è inventato devo fare gli sti eh no ti davo la mia spada di cobblestone anzi però faccio un piccone di fer di pietra o no eh dai perchè ora il legno è più prezioso della pietra adesso quindi adesso di cosa lo faccio? cosa faccio? di pietra tutto di pietra quindi faccio un piccone di pietra un piccone di pietra prima finisci quello però fra si si e poi faccio una spada di pietra si nico ti do un consiglio lascia sempre tutto dentro la cesta perchè qui è facilissimo cadere io mi tengo la spada di legno per ora poso tutto no comunque fa abbastanza luce la la cosa la lava inizia da un'altra pietra fra ne ho cinque e va bene e va bene che riesco senza morire shiftiamoci non moriamo ok fra abbiamo un quadrato inizio ad allungare c'è no mi so eh sì attorno all'albero fare una piccola piattaforma così non cadono gli sapling eh lo so però no ha più pietra e mi spiedere un blocco di pietra eh sai cosa me ne faccio eh inizia a piazzarlo piazzato te l'ho detto io per questo ho usato i trucchi eh però noi siamo persone per bene e vi faremo vedere un video di dieci minuti noi prendiamo solo cobblestone esattamente 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 cioè qui nella skyblock posso tenere anche il rendering normale che non mi laggo perché c'è molto da vedere oltre no fra son finito nell'acqua ma grazie mi ha droppato mai pezzo di legna cioè di pietra grazie eh lo so per alcuni cadono dentro l'acqua di là immagino per avere il ferro ok dopo che il ferro bisogna fare una farm se no non c'è altro modo mi sembra e a far come si fa la farm eh non ne ho più quali del dia sai perchè le spalle sono piuttosto inutili per adesso sono inutili quando si fa più grande l'isola non provo ad illuminarla beh fra mi passi ah poi per fare il carbone bisogna per forza fare carcol carcol lo so fra però se mi passi un po' di pietrisco tocca lo metto nella cesta ah e poi dobbiamo trovare il modo di andare sotto l'isola per prendere eh eh l'acqua cioè per prendere eh la terra Matteo scusate raga ok fra io credo che sia il caso di prendere sto albero eh gli hai fatto una piattaformina recente intorno se mi da un altro un po' di cobblestone la riesco o finiscila a te fatto io rompo i blocchi eh oh sto morendo no cazzo ora avrò due cuori e mezzo per tutta la perchè la fame è bassa eh no mi manca una cosciotta e mezza ma non manca niente una mela ma droppato dammi sta mela no fra vieni qua che dobbiamo prendere gli zapling capito non mi serve la mela mela dammi la mela prendi i zapling eh ma spaccando le foglie si anche se so già che non verrà fuori un carro ah no però c'è uno nella cesta se non esce niente ne abbiamo uno nella cesta si ma una mela dammi la mela è indispensabile è indispensabile ho uno è uscito è ripiazzolo si mela dammi la mela ti prego mela mela sii la mela mangia nuova ora recupera la vita fra i miei riuscire no ma guarda che si posalo c'è non qui dentro intendo qui posalo fra è ora di concludere il video quindi ragazzi vi è piaciuto commentate iscrivetevi se non siete già iscritti e noi ci vediamo il prossimo anno con un nuovo video bello bello bello